ciao a tutti bentornati sul canale o benvenuti se capitate qui per la prima volta in questo caso vi invito ovviamente ad iscrivervi oggi voglio inaugurare una nuova rubrica che avevo pensato di chiamare weekly walks quindi delle camminate settimanali poi mi sono reso conto facendo delle prove che queste walks queste camminate diventavano delle runs delle corse e io mi ritrovavo con dei video dove parlavo con il fiatone e ho pensato che non fosse la scelta migliore quindi ho pensato di chiamare questo appuntamento weekly talks quindi delle chiacchierate settimanali ho pensato di venire in uno dei miei paesaggi preferiti dell'abruzzo il monte bolsa per parlarvi di quello che c'è stato dell'evento che c'è stato tra l'11 e il 12 maggio dell'aurora boreale SAR chiamiamola come vogliamo comunque un evento unico nel suo genere particolare perché testimoniato all'attitudini così basse come quelle dell'italia ma anche del centro sud del nostro paese come qui in abruzzo e vi voglio spiegare il perché io abbia deciso di non fotografarla perché diverse persone mi hanno scritto mi hanno incontrato chiedendomi il perché io avessi deciso di non di non fotografarla e brevemente vi voglio raccontare le mie motivazioni che sono assolutamente opinabili e assolutamente personali e voglio scansare subito da qualunque equivoco da qualunque dubbio dicendo che non è assolutamente una critica a chi è andato ma voglio spiegarvi il perché io abbia deciso di non farlo voglio partire da un discorso legato alla parte artistica io ho fotografato e ripreso questo abruzzo in mille forme in tutte e quattro le stagioni in primavera circondato dai fiori e mi sono detto sulla scorta del fatto che questo evento era stato visibile poche settimane prima mi sono detto che difficilmente avrei potuto fotografare e riprendere una qualunque area dell'abruzzo in un modo particolare e migliore rispetto a quello che avessi fatto in passato a queste latitudini è difficile vedere più di un bagliore rossastro e questo onestamente lo potete vedere anche tutte le foto che sono state pubblicate nelle vostre foto anche più o meno era uguale in tutte le immagini soprattutto in sud nel sud dell'italia nel nord c'era già qualcosa di un pochino diverso però sempre un bagliore rossastro era e mi sono detto che onestamente secondo me non valeva la pena ovviamente da questo punto di vista potrei dire che il fatto di averla testimoniata vista fotografata ripresa in nord europa ha avuto un aspetto determinante perché chiaro che vederla in islanda che si muove che danza con colori diversi è un'altra cosa onestamente quindi non una critica a chi è andato e non l'aveva mai vista ha testimoniato qualcosa di nuovo però ce lo possiamo dire visivamente non era qualcosa di incredibilmente impattante poi mi verrebbe da dire che in parte mi sono pentito perché probabilmente quella sera se fossi semplicemente uscito con la famiglia per fargliela vedere avrei testimoniato insieme a loro qualcosa di unico ma come può essere unica anche una eclissi totale come quella che c'è stata pochi giorni fa in nord america infatti nella giornata successiva di domenica ho controllato sulla mia app che mi dice la possibilità di vedere l'aurora nella posizione in cui mi trovo ho monitorato da ora di cena in poi per cercare di capire se fosse fattibile il fatto di vederla e quindi ero pronto ad uscire con la famiglia ma purtroppo perlomeno in abruzzo non non è stata visibile è andata così purtroppo me ne prendo la colpa poi un altro discorso che però trovo fondamentale da questo punto di vista il mio modo di vivere la fotografia è molto solitario è l'idea di andare in dei luoghi iconici dell'abruzzo e ritrovarmi con altre 20 30 persone a fotografare per me rende questa esperienza completamente depotenziata opinabile sì per carità opinabile ma io vi devo dire la verità da questo punto di vista però questo discorso si lega al discorso finale che voglio trattare in questa puntata che è quello legato all'esperienza in questi ultimi dieci anni di social media dieci anni mi sembra un lasso di tempo corretto in questi anni i social media hanno preso una parte fondante della nostra vita tutti noi spendiamo tantissimo tempo con i nostri smartphone in qualche modo sto contribuendo anch'io con questo video e rischiamo in qualche modo di perdere la parte legata all'esperienza cosa voglio dire c'è una grossa ricerca di attenzione di nuovo anch'io probabilmente sto facendo la stessa cosa postando questo video c'è una grossa ricerca di attenzione che però è quasi totalmente slegata dal discorso dell'esperienza per tante persone probabilmente l'andare a fotografare un evento di questo tipo non era l'andare a fotografare un evento di questo tipo era andare a fotografare un evento di questo tipo per poterlo postare immediatamente sui social media chiaramente non c'è niente di male in questo siamo assolutamente liberi di farlo e tante volte l'ho fatto anch'io quindi ci sta però mi piace far notare come tutto questo non possa essere comunque slegato dall'esperienza lo stare qui in mezzo alla natura sentire l'odore dei fiori sentire il rumore degli uccelli è un qualcosa di insostituibile in ogni caso che varrà 100 mille 10 mila volte un milione di volte il postare una foto cosa che ho fatto e che faccio spesso anch'io attenzione quindi è un'osservazione che faccio a me per primo perché in qualche modo credo che alcuni video siano catartici mi è capitato in passato di girare di registrare dei video per capire io stesso delle cose quindi questo video lo porgo in qualche modo a voi in modo che possa tornare anche a me a memoria futura del non dimenticare mai che prima di tutto c'è l'esperienza poi c'è tutto il resto c'è la possibilità di condividere le esperienze sui social media tanti miei amici tante mie conoscenze degli ultimi anni tante collaborazioni per me sono nate sui social media quindi sono assolutamente il primo da questo punto di vista ad apprezzare il mezzo tecnologico però vivetevi prima l'esperienza e non pensate a quello che dovete fare dopo vivetevi l'esperienza perché questa è l'unica cosa insostituibile e che rimarrà dentro di voi per tutta la vita mi piacerebbe sentire i vostri pareri se volete in futuro che se parli in una discussione aperta in una live scrivetemelo nei commenti mandatemi un messaggio quello che volete io ci tenevo a registrare questa puntata che se sapevo che avrebbe rischiato di scontentare qualcuno ma non era quello il mio obiettivo e quindi vi dico andate fuori divertitevi fotografate scattate e ci vediamo la prossima puntata grazie